Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di Princess Castle, io sono Erika ma oggi non sarò da sola a fare questo video. E con chi sei? Ehi, coffiona che parla e con Carlotta che parla? Parla. Parla, a posto. Che cosa facciamo oggi? Ci sfidiamo Snake, al nuovo Snake è stato un po' rimaneggiato, è un po' strano devo dire, con questo 3310 che è dell'antichità, è nuovo, è il modello 2017 di quello dell'antichità ed è felice. Mi sono quasi spiegata. Che cosa cambia in questo nuovo Snake? Spiega! Prima di tutto ci sono i colori, che è una novità incredibile proprio. Vi ricordate che Snake lo spostavate a destra, a sinistra, in alto e in basso? Ecco questo non si sposta così, non è più solo una riga che dovete controllare, ma è un po' più cicciottello e gira solo in tondo usando i tasti 4 e 6 della tastiera. Ci sono anche degli ostacoli da evitare e quindi è diventato difficilissimo. E niente, abbiamo provato a fare delle partite di allenamento così per vedere. Voi, io niente. Fiona fa finta di essere, ha avuto da sola una settimana, secondo voi non ha giocato a Snake? Eh vabbè. Abbiamo provato a vedere un po' com'era e sappiate che, niente, faremo una fine terribile, le partite durano 3 secondi e mezzo e poi si muore. Vai! Ok, allora quanto pare comincio io? Sappiate che ci daremo 3 possibilità perché non funziona come lo snake vecchio dove andavi avanti così all'infinito per vedere finché lo schermo non era pieno dello snake e non riuscivi più a capire come potevi muoverti. Qui ci sono dei livelli e ad ogni livello cambiano anche le difficoltà, nel senso che ci possono essere ad esempio più ostacoli da evitare. Quindi io sono pronta. Fiona, se ti vuoi approvinguare con lo strumento del potere. Selezionato difficoltà normale, eh? Via! Dai che tanto perdi, perdi, ti schianti contro... Fiona che mette l'ansia. Grazie, la tua correttezza è sempre così. Dai che ti schianti contro tutte cose, dai che perdi, dai che muori subito e che vincono tutti gli altri tranne te. Carlotta, io te lo dico, ha un serpentone lunghissimo, anche detto che sia molto brutto. Ah, lo so, lo sappiamo che purtroppo doveva vincere lei, si è allenata, capito? Ma non è vero? Ecco, morta, mannaggia, morta buu. Allora, 13, riproviamo. 13 che cos'è, i punti che hai fatto? 13 mele che hai mangiato. Vai. Cacchio, che culo! Ma la è l'amica incredibile! Hai fatto un pelo! No! Fallaggia! 16? 13, 16. Ultima possibilità. Adesso muoio subito. Carlotta prima ha fatto un pelo al muro, poi l'ha presa finita con la faccia. Dai, dai, dai! Dai che cosa? Dai! Stai facendo il tifo per me, eh? No, per il muro. Per te, ti pare che faccia il tifo per te? Scusa. Ma io ogni tanto ci spero, capito, che faccia la bella persona, però capisco che sono... Carlotta è troppo brava. Eh, lo so, lo so. E ha un serpentone di 6.000 metri e continua a ammagnare mele. Ammagnare mele. Astarda! Mi dice hai vinto perché ho fatto 15. E se vai a livello successivo. Ah, no, no, puoi andare a livello successivo perché non sei morta. Carlotta io la vedo grigissima qua. Sappilo. Eh, ma qui ci sono due muri, eh. No! Era sempre peggio. Ah, ma si muovono i muri. Eh. Ma che è? Eh, non è mica un... Pizza è fig... Mele è fig... No! Eh! Che pelo incredibile. Guarda, è la... è la fortuna sfacciata del principiante. Ma quale principiante? Eh, 13, passo al terzo livello. Ma cos'è questa roba qui? Aiuto. Oddio, che cos'è? Ci sono le pareti. Ma era un Super Mario Snake, un Super Snake. Portale aperto. Ma che è? Che cacchia è il portale? No, no, il muro. Il Super Mario, che è diventato? Prendilo il portale. Ah, era questo il portale. Eh! No! Sei morta, mi dispiace. Vabbè, 6 ho fatto con... Totale? Dica. 13. 13. 16. Più, aspetta, più, 16. E poi insieme? Sì. 15, 13 e 6. Più 15, più 13, più 6. Risultato. 63. Ma tre punti! No. 63 il record da battere. Tocca a Carnotta! Ok! Sei pronta? Sì! Tu, 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 tu! Ho visto proprio! Ah, poi c'è la presenza qua di Fiora. Eh, che aiuta tantissimo, eh. Sì, sì. Dai che perdi! Certo, sei proprio un gatto nero, eh. Black cats. Ecco, dopo che l'ha detto in inglese siamo tutti più felici. Erika, puoi venire a guffare qui, no? Io devo controllare... No, no! Che culo! Che culo! È bravura, non è culo. No, no, è culo! Mi sa che saranno tutti molto più bravi di me, eh? Ma non è vero. Eh, sì, ma no. Non c'è sempre... Non c'è sempre così. Ah, quanto siamo? Devi mangiarle le mele, eh, non lasciarle lì, non evitarle. Lo so, ho capito. Non so chi parla. 12. 12 è il primo livello. Vai. Inca, bisogna spiegare a Carlotta qual è lo scopo del gioco, perché... Che ansia, lo so qual è lo scopo del gioco. Vince chi perde più velocemente. Io, allora io ho vinto tutto. Ok, ottimo. No. Da questi che si super muovono. Dai, bravissima, bravissima. Gira, gira, gira. Devi andare lì contro, però, sennò non vale. Ma fare la stronzona, eh. Ma fare la stronzona. Si, però non è che devi evitare adesso. Eh. Cioè, sei andata nel mezzo proprio. Non ho capito. Però in tutto questo ricad... No! Stavo per dire... Sette! Stavo per dire, non è mai morta. Invece. Invece. Sette. Vai, ce la possiamo fare. Ancora due morti a disposizione. Due? Sì. Addirittura. Mi ricordo che Erika è arrivato fino al livello coi muri, quelli strani, eh. I muri strani. Col portale che non l'ha visto. Del resto, del resto si allena. Eh. Non è vero, i muri strani poi non li avevo neanche mai visti. Va, 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 va. Va come va? Va, va, va. Vedi che dice a me, eh? Va che Carlotta... Vedi che è un gatto nero! È un gatto nero! Quattro? Nove. Eh, va buono, eh. È un gatto nero. È una realtà. Siamo a due morti? No, 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 no. Per tutto ciò mi avete detto non giocarci perché sennò poi tu, Bari, eh, sono l'unica che non ha giocato mai giocato. 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 Tu hai detto guarda con me. Tre. Per guardare con me. Tre. Tre. Finito? Abbiamo una perdette. Abbiamo una perdette. Abbiamo una perdette. 12 più 7, 19. Più 9, 28. Sì. Più 3, 31. Ah, adesso è il mio turno! Porta spiega, Erika, perché è un gatto nero. Fammi vedere di cosa sei capace, zia. Vado. Vai. Non ti perdi, perdi, perdi. No, perché inizia da qua? No, 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 devi resettarlo. Come si fa? Stoppalo! Adesso sei pronta? Vado! Vai! Non ho capito perché la musichetta ogni tanto così ferma. No, fa 5 minuti dopo smette. Così. No! Guarda! Guarda! Guarda, 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 Fiona che brava! Scherzavo. Quanto? 8. 8. No, ho già perso una vita. Vai! Vai, zia, io credo profondamente in terra. Non è vero, no, perché è un gatto nero. So che puoi fare di meglio, zia, dai! Guarda che numeri incredibili. Siamo persino a 12, 13. 13 porta male, 14. No! Non ho morta! 13 portava male, 14. Ma neanche a secondo livello sono arrivata. Ma voi vi siete allenate, non è giusto? Ma se sono tutte scuse. Devo fare meglio di 31, dai, cacchio! Dai, da quel cacchio, vai, tu scempa! Non so dove sto andando. Non so dove vado, non so perché vado, non so chi sono. Eh, ma per chi è? Da dove vengo? Come mi chiami? No, da dove vengo lo so. Da dove vieni? Di Albania. A posto! Vai! Fai chiedere quando sono così, bravi gli albanesi con questi videogiochi moderni, su! Dai! Ho vinto! 14! 14 passa il livello! Oddio! Si muovono! Ma che è? Chi vi ha detto che potete muovere? Zero! Zero, zero, zero! Hai fatto di più Fiona? Mi sapessi che... Focata, non devi dire queste brutte cose, eh! A quanto adesso? 14, no? Sì! Non è vero, l'ho fatto di più! Sì! 36! Eeeeeee! Adesso facciamo un applauso vincitrice cosa... cosa... Eeeeeee! Scusa, io mi ero totalmente dimenticata della tua presenza, ero felice per non essere arrivata ultima! Ah, grazie! Sì! Come era previsto, ho vinto io! Ecco! Con grande margine! Eeee! Zia! Sì! Non fare dei gesti strani! No, non le faccio mai! Mai! Mai nella vita! Va bene, a chi dedichi questa vittoria? La dedico a Luigi che comunque ogni tanto disturba! A Luigi che mi ricorda essere il cane dei vicini che abbaia! Costantemente! 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 Soprattutto quando... Siccome ho vinto, sicuramente adesso potrò chiedere un favore a testa a Fiona e Carlotta che invece hanno perso! Ma assolutamente no! Ovviamente noi ci vediamo al prossimo video, voi ricordatevi di mettere like, di condividere tutto, di lasciare dei commenti, di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e continuo a chiedermi come sia possibile, quindi fatelo tipo adesso! Fate iscrivere anche la nonna, nonno, lo zio, madre, padre, tutti quanti! Ricordatevi di guardare i video che vi suggeriamo che sono un po' a destra, un po' a sinistra, un po' in mezzo, adesso vediamo! E noi ci vediamo al prossimo video, ovviamente vi salutano anche Fiona e Carlotta! Ciao!